I fatti sono accaduti qui, in pieno centro di Sartè, davanti a Piazza Purta. Stanno diversi due ore di mani, Ubaro Sirnos, che si trovava da retta a me, è stato toccato da una spursione potente, il soffio era violento. In Ubarra, che era assarato e che si trova in piano di terra di un casale, i sguasti sono assai importanti, tutto è stato distrutto. Pareti abitanti di sugasali di tre piani sono stati evacuati, un cegno è ferito e, secondo certi testimoni, è un miracolo. Nel primo piano, l'appartamento sopra il caffè è stato di nuovo dannediato da spursione. Solo per questo qui, Ubarri di Sartè ha preso un arretto di miso in perio. Dopo mezz'ora, aveva un esperto per verificare la struttura di un casale. A Prego Radaiaccio ha appartato un'inchiesta per la distruzione per un moyen dangereo per le persone. Sono i gendarmini di Assezione di Ricerca, che sono incaricati di l'investigazione. A questo ragui, nessun taglio è stato troppo e non c'è stato nessuna rivendicazione. Dice a Prego Radaiaccio che l'inchiesta comincia solo a UAR e che è troppo presto per sapere in che senzi andrà in investigazioni.